lunedì 5 dicembre buongiorno buon inizio di settimana ben ritrovati cominciamo questa settimana con la consueta rassegna stampa del mattino il nostro classico giro dei quotidiani andiamo a scoprire insieme come tutte le mattine le anticipazioni in prima pagina tramite ovviamente i titoli più importanti i titoli in primo piano partiamo subito cominciamo con il quotidiano la sicilia partiamo da questo titolo tsunami andiamo nel dettaglio si parla chiaramente di stromboli il vulcano riprende l'attività si stacca un costone e provoca una mareggiata poi la politica regionale il piano del presidente schifani lavoro e famiglie altri 500 milioni ha detto il governatore disavanzo e lucoil asse con roma duello rusticano ieri tra micichè e falcone forza italia è in pezzi e poi l'analisi proprio di questa situazione del centro destra in sicilia l'analisi ovviamente sul quotidiano la sicilia lo show diverte si legge ma cali il sipario la sicilia chiede sobrietà e fatti e ancora guerra agricola europa cina prodotti siciliani in trincea poi spazio vedete al calcio con il mondiale in catar mbappé show francia avanti vai quarti anche l'inghilterra mentre la catania non va oltre il pareggio a san cataldo ma è comunque un buon punto che permette rossazzurri di essere già campioni d'inverno in taglio alto il lunedì siciliano con francesca guccione tra modica musica e grandi sogni poi il giro delle città catania controlli interforze sulla malamovida sempre a catania preso un uomo violento che vedete minacciava ed era appunto violento nei confronti di moglie e figlie a mineo invece un pusher è stato sorpreso con la cocaina al posto di blocco mentre taormina il comune incassa 3 milioni per i debiti lasciamo il quotidiano la sicilia vediamo cosa ci propone stamane il giornale di sicilia si parla di politica politica regionale aggrappati a un salva sicilia questo il titolo dopo la mannaia della corte dei conti schifani tesse la tela per spalmare il maxi disavanzo sicuri per ora solo stipendi e aiuti alle imprese in bilico fra le altre cose ci sono 350 assunzioni parla gaetano armao quella norma dice è stata contro firmata da tutti a roma e poi giorgia meloni a proposito della manovra soprattutto sul pos la soglia dei 60 euro può abbassarsi dice la premier a stromboli alle eolie vedete una domenica di paura un terremoto poi lo tsunami la gente in strada lievi danni stromboli onda anomala per un distacco della dalla sciara del fuoco e poi ancora cronaca con incidenti mortali due per la precisione a gela e catania ampio spazio come tutti i lunedì al calcio si parte dal palermo che torna alla vittoria in serie b brunori guida la riscossa del palermo vittoria a benevento sono tre punti importanti possono respirare corini e i rosa nero e poi la mondiale in catar la francia vince 3 a 1 contro la polonia un bappé incontenibile e la francia vedete vola ai quarti l'iniziativa palermo monte pellegrino la chianata ecologica via 200 sacchi di rifiuti si parla poi della prossima edizione del festival di sanremo ieri sono stati ufficializzati big l'isola a sanremo quindi la sicilia ci sarà con levante di martino e colapesce la classica gita fuori porta del lunedì sul giornale di sicilia cianciana il fascino della natura il fiume platani un'immersione nei riti contadini proseguiamo con la nostra rassegna stampa adesso andiamo a vedere cosa ci propone il quotidiano la repubblica si parla della pos e delle parole di giorgia meloni che a proposito di questo tema vedete ha fatto una sorta di retromarcia l'europa solleva dubbi sull'innalzamento del tetto per l'uso del contante previsto in manovra perché incoerente con la lotta all'evasione fiscale e allora giorgia meloni rassicura la soglia dei 60 euro si può abbassare per quanto riguarda invece il pnrr nel governo sempre più ministri vorrebbero incolpare draghi dei ritardi urso dice centreremo i risultati della recovery snellendo le procedure per le imprese e poi a proposito di politica ancora e della segreteria del pd dunque del dopo letta scende in campo schlein che dice vedete un'onda anticorrenti proseguiamo lasciamo il quotidiano la repubblica questo è il corriere della sera si parla ancora di del pos dei famosi ormai 60 euro con giorgia meloni che frena appunto su questi 60 euro la soglia si può calare a proposito del pos ha detto la premier mentre schlein scende in campo guiderò un nuovo pd manovra l'ipotesi stralcio per cartelle cartelle fino a 1500 euro partiti in pressing intanto sul super bonus mentre la questione iran iran nel caos il procuratore la polizia morale è stata abolita questo l'annuncio ma il governo tace proseguiamo lasciamo anche il corriere della sera siamo sul quotidiano la stampa vedete l'argomento di riferimento della giornata è proprio questo gli italiani preferiscono il pos titola il quotidiano la stampa giorgia meloni frena il tetto dei 60 euro sarà cambiata maggioranza divisa intanto su pensioni e cartelle esattoriali per euromedia riserce il 50 per cento il 56 per cento non apprezza la decisione sul contante mercoledì vertice sul bilancio dunque questa questione della pos fa discutere non poco come vedete ed è un argomento di riferimento stamane sui quotidiani cambia invece argomento di riferimento il quotidiano il giornale questa è l'apertura si parla della sinistra facce nuove vecchi comunisti titolo del giornale a proposito di ellis line la deputata si candida la segreteria del pd e cavalca l'anima più sinistra anti liberismo e ultra ecologismo e poi giorgia meloni che ha parlato anche di draio meglio dell'eredità lasciata da l'ex premier ci ha lasciato vedete 30 obiettivi del pn rr ancora salvini che vince i congressi orgoglioso del team il leader leghista resta in sella e poi il quotidiano del giornale si occupa di un argomento che riguarda il calcio riguarda i mondiali in catara ma che ha fatto molto discutere soprattutto sui social ovvero le telecronache di lele adani messi l'argentina e le telecronache adani parla come giocava ovvero così così vedete il giornale che parla di insopportabili e appunto tra questi insopportabili mette il tanto discusso lele adani mentre a proposito del mondiale mappe abbatte la polonia la francia pensa alla vittoria francia campione del mondo che dunque adesso sogna il bis mondiale siamo sul fatto quotidiano tema diverso in questo caso la destra rivuole le province 2500 poltrone per i partiti grandi ritorni calderoli guida la restaurazione delle province appunto ora caccia alle risorse intervista in questo caso al segretario della cgl landini cosa hanno fatto i poveri a meloni si chiede landini ora piazze e dialogo con bonomi queste le parole del segretario della cgl andiamo avanti ci spostiamo sul quotidiano il tempo si parla di politica di giorgia meloni che in questo caso difende la manovra le verità di giorgia questo è il titolo spiega le sue scelte sul web tra reddito di cittadinanza e rubare c'è l'opzione lavoro dice la premier sul cash a quota 5000 in realtà è una misura che contrasta l'evasione mentre per quanto riguarda la soglia del post a 60 euro come abbiamo visto meloni dice è indicativa e si può abbassare accetto interlocuzioni il pd con line vedete che porta idemma sinistra pugni chiusi e bella ciao titola in questo caso il quotidiano il tempo e poi per quanto riguarda invece le tanto discusse anche ong hanno ingannato il senato parla gasparri che dice giunta per le immunità privata di documenti decisivi e un reato lasciamo anche il tempo andiamo a vedere l'apertura del quotidiano alla nazione si torna a parlare del pos e delle parole di giorgia meloni che rivede appunto l'obbligo per il pos la premier apre una rubrica sui social e annuncia riabbassare sotto i 60 euro la soglia minima per il banco mat si tratta con l'unione europea mentre parla cassese bene il governo e dell'ishline invece si candida la guida del pd al suono di bella ciao parte una storia nuova ampio spazio poi all'edizione 2023 di sanremo il titolo in questo caso è nostalgia canaglia ed è molto molto azzeccato il cast di amadeus largo agli anni 90 esclusioni eccellenti e poco rock all'aristo vedete tanti volti appunto storici degli anni 90 giorgia paolo e chiara i cugini di campagna gli articolo 31 insomma sarà una sorta di sanremo piuttosto vintage ecco possiamo definirlo così il quotidiano libero intervista invece il ministro della salute schillaci mai più obbligo vaccinale dice il ministro non è più tempo di costrizioni il parlamento ha diritto di indagare sulla gestione della pandemia fuori l'ideologia dalla sanità il virus è cambiato dice il ministro chiamiamolo covid 23 un'ora di educazione sanitaria scuola cure uguali in tutte le regioni queste dunque le ricette e le intenzioni del ministro schillaci mentre per quanto riguarda giorgia meloni l'agenda vera ce l'ha giorgia titola libero il premier mostra i suoi quaderni d'appunti dunque con giorgia meloni che come abbiamo visto aperto questa sorta di rubrica social appunto per spiegare un po il lavoro quello che intende fare il governo ed ora lo sport andiamo a vedere le prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi italiani ovvero gazzetta corriere tutto sport parliamo partiamo dalla rosea c'è la francia in primissimo piano dopo la grande vittoria di ieri la firma di girù titola la gazzetta il milanista da record lancia la francia segna il primo gol alla polonia e adesso il diavolo è pronto a rinnovare subito il contratto del giocatore dopo il mondiale in catar ma non soltanto girù ovviamente anche e soprattutto il mondiale di mbappé sono già cinque gol e punte di velocità di 35 orari nei quarti trova l'inghilterra di henry kane sarà certamente una grande sfida si parla poi di juve o meglio del caso juve l'intesa stipendi nel mirino dei pm i giocatori contrari mentre per quanto riguarda vedete l'inter scrina robastoni potrebbero andar via l'ecuadoriano in capie speriamo che la pronuncia sia quella giusta per la nuova difesa nerazzurra ovviamente si parla anche di calcio mercato perché la finestra invernale si avvicina e poi il corriere dello sport che invece esalta mbappé l'eroa kilian così lo definisce il corriere dello sport capo cannoniere del mondiale trascinatore della francia verso il bis mondiale mbappé stende la polonia con due gol e un assist ora nei quarti sfida l'inghilterra davvero un super match da record l'asso del paris al germain nove gol tra russia e catar dunque negli ultimi due mondiali una in più di pelè e l'erede di messi e cristiano ronaldo senegal affondato 3 a 0 da anderson kane e sacca sabato in palio la semifinale il 3 a 0 ovviamente si riferisce alla vittoria dell'inghilterra che quindi sfiderà adesso i campioni in carica della francia occhio al brasile neymar ce l'ha fatta dunque recupera il campione verde oro recupero lampo per l'attaccante che giocherà contro la corea titeri lancia anche danilo per abbattere gli asiatici dunque il brasile che recupera i suoi pezzi da 90 e poi vedete la juve tutti i dubbi di el can sulla juve le perplessità della exor e già si parla di una possibile cessione del club bianconero chiudiamo con tutto sport c'è proprio la juve in primo piano juve punti a orologeria sul campionato pende il verdetto della giustizia sportiva tra aprile e maggio potrebbe creare polemiche enormi se ci fossero punti di penalità per i bianconeri le intercettazioni dei dirigenti e l'autocritica sulla gestione aziendale dunque tifosi della juve ovviamente col fiato sospeso perché potrebbero arrivare anche delle penalizzazioni in campionato il mondiale fenomeno mbappé porta girù al record mentre la francia che vince troverà adesso l'inghilterra è arrivato anche henry kane si è sbloccato il campione del tottenham che con l'inghilterra che batte appunto il senegal e adesso se la vedrà con i campioni in carica noi intanto ci possiamo fermare qui abbiamo fatto il nostro consueto giro dei quotidiani anche questa mattina abbiamo visto tanti argomenti molto importanti dalla politica alla cronaca passando per lo sport quindi possiamo chiudere questa edizione della rassegna stampa e come sempre come tutte le mattine grazie per essere stati con noi grazie a tutti grazie a tutti